30 scimpanze stavo a new daily e visitavo una specie di zoo una signora indiana tira fuori dalla borsa del pane indiano che è piatto e lo dà ad uno scimpanze lì accanto c'è una mucca che allunga il muso verso il pane lo scimpanze straccia il pane in due e l'altra metà la dà alla mucca commento è l'amore istintivo di un animale prossimo alle incarnazioni umane ma non è come un amore umano la società degli scimpanze rimane sempre la stessa e non evolve a differenza della società degli umani che cresce e si modifica vivificata dall'autocoscienza sin dalla prima incarnazione umana il progressivo mutare dell'uomo interiore è scandito dall'autocoscienza